salve a tutti amici e amiche molti si ricorderanno uno dei momenti più significativi della guerra in ucraina quando il 13 aprile 2022 due missili neptun colpivano e affondavano l'ammiraglia della flotta russa nel mar nero quindi oggi tratterò questo argomento cercando di fare luce su questa vicenda per quello che sappiamo o che possiamo ipotizzare come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale l'incrociatore lancia missili moskva era considerata una fortezza una piattaforma piena di ogni tipo di difesa e contromisura ma che come sappiamo è finita sul fondo del mare portando con sé centinaia di vite umane è stata la più grande nave da guerra affondata dai tempi della guerra nelle falkland quando l'incrociatore leggero general belgrano fu affondata da un sottomarino nucleare inglese nel 1982 mentre per restare in tema sovietico o russo da quando nel 1942 il pilota tedesco hans hurry krudel affondò con il suo stuca la nave da battaglia marat con una singola bomba nel porto di leningrado nel golfo di finlandia ma come è stato possibile che una nave così potente come la moskva con le sue batterie di missili a lungo e corto raggio e i sistemi di difesa di punto a canne rotanti sia stata sconfitta da due missili modificati per il ruolo antinave il caso per chi se lo ricorda ha avuto un enorme impatto mediatico una vera e propria umiliazione per l'orgoglio nazionale russo certo per noi è difficile immaginare cosa abbia significato tutto questo per i russi ma provate anche solo a figurarvi l'impatto sull'opinione pubblica e sui media in italia in uno scenario ipotetico in cui la cavur o la garibaldi fosse stata affondata da due missili stupidi in questo modo l'incrociatore moskva il cui nome originale era slava è stata la nave ammiraglia della flotta nel mar nero entrata in servizio nel 1983 costruita presso i cantieri navali di mikolaia in ucraina nel corso degli anni ha subito diversi aggiornamenti gli ultimi nel 1998 proprio nei cantieri in cui era stata costruita con un dislocamento di 11.280 tonnellate a piano carico una lunghezza di 186 metri capace di viaggiare a 32 nodi che sono circa 60 chilometri orari e 485 membri dell'equipaggio a febbraio 2022 un articolo di un analista militare statunitense david ux definiva questa nave come un mostro capace di dominare da sola il mar nero e di distruggere l'intera flotta ucraina e capisco e condividevo anch'io l'opinione di questo analista perché stiamo parlando della miraglia russa dopo tutto nessuno fino ad allora aveva dubitato delle capacità di questa nave che aveva visto il suo impiego operativo in supporto alle operazioni in georgia e poi nel 2015 in siria e di fatto l'armamento di questa nave era impressionante poiché concentrava tutte le capacità a lungo medio e corto raggio in termini missilistici di produzione russa per descriverlo un poco in dettaglio aveva iniziamo con la capacità offensiva dei 16 lanciatori antinave p500 basalt nome in codice nato ssn 12 sandbox grossi missili da crociera guida radar e capaci di trasportare testate convenzionali e nucleari più un cannone binato da 130 mm e poi la lunga lista per l'autodifesa iniziando con 16 batterie di lanciatori s 300 sa 10 abbinati con i potenti radar di scansione della nave in grado di acquisire e rilevare fino a 320 chilometri tracciare bersagli multipli fino a 150 chilometri e intercettare missili da crociera e aerei fino ai 75 chilometri ora sugli s 300 ho già dedicato un altro video ma ecco considerando i limiti di quest'arma nell'utilizzo sulla terraferma bisogna invece dire che sulla superficie del mare ostacoli naturali e clattering del radar praticamente non ci sono quindi i parametri di citata o raggio di acquisizione di queste armi in queste condizioni hanno un limite dettato solo dalla curvatura terrestre per la difesa a corto raggio contava su un imponente scudo missilistico di 40 sa 8 a guida radio un sistema antiaereo antimissile con capacità fino ai 15 chilometri mentre per la difesa a cortissimo raggio un fuoco di sbarramento di sei cannoni automatici a sei canne rotanti da 30 mm con una cadenza di fuoco fino a 5000 colpi al minuto controllati da un sofisticato sistema radar di puntamento e coordinamento del tiro queste torrette per intenderci sono simili alle palanze americane e anche migliori in termini di citata massima parliamo del doppio circa 4 chilometri per quelle russe mentre le gatling americane hanno i colpi che cadono a 2000 metri a questo poi si aggiungevano siluri lanciarazzi mitragliatrici mitragliatrici brandeggiabili un elicottero e come ho detto prima quasi 500 uomini tutto quello che appena menzionato per me che conoscevo questa nave da ben prima che venisse affondata erano dei dati noti cioè si era a conoscenza della sua enorme capacità offensiva e difensiva che rispecchiava un poco la logica di costruzione navale russa del poche navi ma pesanti e buone al contrario per esempio della logica delle unità navali americane che sono più piccole e in quantità ma come quindi e come è stato possibile che sia stata affondata un'unità così potente sulla carta per sconfiggere queste unità sarebbe necessario tirarle addosso un'enorme quantità dei missili non un paio e così da impegnare la sua capacità di tracciamento e tutti i lanciatori nella speranza che qualcuno dei nostri missili passi oltre il fuoco di sbarramento dei cannoni e qualcuno arrivi al bersaglio cioè quello che vi ho appena descritto viene definita saturazione per capire di cosa stiamo parlando ho fatto dei test in simulazione dove appunto vediamo che qualsiasi cosa io tiri alla mosca questa me lo intercetta perché semplicemente finché la massa di oggetti o meglio di missili che le tiro addosso è in un numero che la sua capacità di acquisizione può gestire e finché ha munizioni questa ci riesce il concetto di saturazione parliamoci chiaro un po alla base della costruzione delle unità navali moderne sulla saturazione e sul fuoco di sbarramento si concentrano tutte le logiche antimissile ed è un po per questo che per esempio la marina degli stati uniti viaggia sempre in grossi gruppi di attacco dove potenti software e data link di condivisione dati e coordinamento del tiro lavorano insieme e le unità sono più un insieme più di un insieme di singole navi che collaborano ma la somma di più parti con qualità decisamente superiori ma quindi perché nel mio ambiente simulato l'incrociatore lusso è riuscito a intercettare tutti i missili che gli ho tirato mentre poi quella vera alla fine è stata affondata per capricci meglio ho dato un'occhiata a diversi canali qui su youtube e anche qualche servizio televisivo una delle cose che è emersa soprattutto o almeno che molti hanno ditato come causa principale è stata l'età delle nave e dei suoi sistemi che evidenziava un disperato bisogno di aggiornamento la struttura stessa della nave richiedeva interventi seri di manutenzione e così anche i sensori seppure potenti e ad ampio raggio potevano considerarsi obsoleti molti suggerivano che anche gli stessi materiali di cui era fatta la nave fossero non fossero scusate ignifughi e che appunto nella remota circostanza in cui un paio di missili fossero stati in grado di penetrare lo scafo la nave e l'equipaggio si sarebbero trovati in serio pericolo in un certo senso 40 anni in mare evidenziavano delle criticità e i sistemi della nave richiedevano riparazioni e modernizzazione una revisione era quindi necessaria ma a causa dei fondi insufficienti del governo russo fu continuamente rimandata con l'evolversi della situazione in ucraina negli anni precedenti al conflitto fra le altre cose furono interrotte le forniture dagli stessi cantieri da cui era uscita la nave come i componenti per i motori e dei sistemi che kiev non fu più disposta a concedere dopo il 2020 quindi negli ultimi anni non fu fatto niente per risolvere i problemi atavici della nave e per questo motivo molti analisti a prescindere dalle sue enormi capacità misilistiche affermavano che l'unità non era in realtà più adatta al combattimento marittimo contemporaneo e questo detto francamente avrebbe dovuto far accendere qualche lampadina al cremellino che forse dico forse la nave non era poi così all'altezza della situazione e che correva qualche rischio ma come si dice quando il tuo governo si basa su una schiera di generali e strateghi che sono tutti sì signore perché a contraddirti rischiano di perdere il posto di lavoro se va bene diciamo che una visione realistica delle proprie risorse non è proprio scontata come dovrebbe essere così quando il 24 febbraio 2022 il segnale di invasione arrivò a tutti le parti militari l'incrociatore avrebbe dovuto aiutare l'invasione su larga scala supportando le operazioni dal mar nero e così arriviamo a uno dei fatti più iconici di resistenza mai documentato dalla storia umana il 24 febbraio l'incrociatore moscava si avvicinò all'isola dei serpenti o meglio snake island un piccolo isolotto a ovest della crimea dal ruolo strategico e su cui era presente una piccola guarnigione ucraina la nave approggiandosi all'isola trasmise un semplice messaggio ai cento soldati della guarnigione vi suggeriamo di abbassare le armi e di arrendervi per evitare spargimenti di sangue inutili altrimenti verrete bombardati la guardia costiera ucraina nella voce del 31enne roman harebov rispose in modo memorabile nave da guerra russa vai a farti fo re fu la nascita di un miliardo di meme il primo segnale per putin che l'ucraina non si sarebbe arresa di fronte alle sue tattiche brutali ma quel giorno nessuno neanche il più ottimistico osservatore internazionale avrebbe immaginato il destino che l'ammiraglia russa avrebbe dovuto incontrare il 13 aprile del 2022 nessuno sospettava nulla e l'esercito russo aveva il suo da fare sulla terraferma mentre il moscava era il padrone indiscusso del mar nero moltissime navi ucraine erano state distrutte e non c'era niente che potesse minacciare la nave questa sicurezza di sentirsi al sicuro aveva portato l'unità a soli 120 chilometri della costa per poter così fornire uno scudo missilistico alle operazioni aeree a nord della crimea ma a quel punto c'erano già dei segnali che qualcosa stava cambiando nella capacità di reazione ucraina segnali per cui la marina russa non avrebbe dovuto sentirsi così troppo confidente solo poche settimane prima la prima nave d'assalto russa la orsk era stata distrutta nel porto di berdyask e quella era stata la più grande perdita navale russa degli ultimi decenni ma essendo un'unità minore nessuno ci fece caso più di tanto nel frattempo però gli ucraini in quelle prime settimane di guerra hanno cercato disperatamente di modificare e utilizzare i moderni missili di loro costruzione come l'rk 360 mc neptun questo missile testato con successo nel 2018 era entrato in produzione nel 2021 ed era così nuovo che il primo lotto aveva lasciato in magazzino il 20 febbraio 2022 pochi giorni prima dell'invasione queste batterie quindi erano presenti sulla costa e non aspettavano altro che un'opportunità per essere lanciate e il 13 aprile 2022 è proprio quello che è successo ora di questi eventi ci sono due versioni una in cui la nato ha fatto il grosso del lavoro l'altra in cui l'ucraina è stata l'unica e sola autrice di questo attacco nella versione nato il comando europeo ha aiutato kiev nella localizzazione della nave russa mentre nella versione ucraina la nave russa fu individuata per pura coincidenza su questo almeno sulla versione ucraina sono piuttosto scettico nel senso se avete visto il mio video sulle difficoltà di fare analisi del conflitto e vi passo il link in descrizione spiego chiaramente che in questi due anni la nato è sempre stata presente 24 ore su 24 in ricognizioni nell'aria quindi non è un segreto che i dati di intelligenza siano stati condivisi con kiev oggi come allora quindi ecco diciamo che sono portato a credere che la posizione della nave fosse estremamente facile da rilevare quel giorno nonostante la copertura di nuvole e così pericolosamente vicino alla costa quindi per essere onesti entrambe le versioni sono verosimili e potrebbero essere vere entrambe e non escludersi a vicenda fatto sta che alle 4 del pomeriggio ora locale una unità ucraina dotata di missili neptun con i suoi camion provvisti di lanciatori si è trovata in zona con il bersaglio fermo lì a portata di tiro due missili partirono accelerando inizialmente per poter così accendere il propulsore a jet e così poi abbassarsi sulla superficie del mare ed evitare di essere rilevati dal momento del lancio fino al bersaglio il volo richiedeva 6 minuti 6 minuti in cui nessuno sapeva se i missili avrebbero colpito il bersaglio o sarebbero stati intercettati dalle difese antimissile della nave il tempo era pessimo quel giorno i droni non riuscivano a vedere nulla e quindi nessuno avrebbe avuto una conferma visiva di quanto stava accadendo ma gli operatori radar delle postazioni ucraine hanno visto qualcosa sui loro schermi hanno visto la nave accelerare a tutta velocità come se cercasse di fuggire e poi a partire da quel momento le altre navi della scorta a correre in soccorso di questa ma quello che sappiamo è che le quattro navi di scorta poi non sono riuscite a fornire supporto in tempo e quel pomeriggio un forte temporale impedì a queste di trainare la nave a miraglia per metterla in salvo e in quelle ore la nave imbarcava sempre più acqua e il salvataggio si rese impossibile il giorno successivo il 14 aprile il moscava affondava portandosi con sé centinaia di marinai russi e nonostante la propaganda russa cercò di minimizzare l'accaduto affermando che la nave era affondata a causa di un incendio occidentale tutti quanti sapevano la verità a quel punto con due soli missili due soli missili avevano affondato la più potente e difesa nave russa del mar nero l'ammiraglia il simbolo dell'invulnerabilità russa in qualsiasi conflitto della storia umana questa perdita sarebbe stata eclatante e significativa certo contro un avversario con una forza marittima ma appunto data la disparità delle forze in campo l'evento è diventato molto di più un simbolo per la resistenza ucraina di una nave costruita proprio in ucraina in un momento storico in cui i vertici comunisti cercavano in tutti i modi di convincere i cittadini ucraini che le due nazioni erano amiche e fraterne legate da una collaborazione vantaggiosa per entrambi è proprio quella nave con le sue azioni si era macchiata di crimini contro quei soldati che dovevano essere fratelli e in violazione dei trattati internazionali una nave costruita sulle bugie quindi per giustificare un colonialismo atto a ripristinare un impero del passato e impedire la sovranità di una nazione ma al di là delle retoriche e dei significati di questi eventi che ora so benissimo che faranno arrabbiare i filorussi non possiamo negare che la nave ammiraglia della flotta russa sia affondata e questi che ho raccontato sono i fatti ma dopo due anni possiamo stabilire cosa è successo cosa non ha funzionato è possibile che l'età della nave e delle sue armi sia stata la causa oppure c'è dell'altro parliamoci chiaro il neptun è sì un missile moderno ma non è molto diverso da un harpoon americano come classe è pur sempre un grosso missile da crociera con un radar attivo e che nel momento in cui si avvicina avrebbe dovuto far suonare ben più di un allarme sulla moscava quando anche non fosse stato rilevato sul radar l'improvvisa accelerazione della nave ci dice che in quei sei minuti di volo l'equipaggio si è quantomeno accorto che stesse accadendo qualcosa quindi perché le formidabili difese non hanno funzionato abbiamo qualche elemento o indizi per farci un'idea delle reali cause che hanno portato alla perdita della nave partiamo col dire che nessuno si aspettava che questa nave affondasse incassando solo due missili cioè in generale e questo lo potete vedere voi stessi nei tanti video che circolano in rete quando si fanno esercitazioni su vecchie caccia torpediniere usate come bersagli missili di questo tipo ne possono incassare dozzine e restare a galla e a volte non bastano neanche i siluri quindi da subito ci sono state speculazioni che questa unità di classe slava avessero dei gravi difetti di progettazione che le rendevano vulnerabili onestamente non faccio fatica a crederlo dal momento che l'intera nave era un deposito di missili con tutto il loro propellente solido e le testate esplosive quindi in teoria in qualunque punto della nave sia avvenuta un'esplosione avrebbe potuto generare una reazione a catena incontrollabile ma ovviamente il problema principale non è che questa nave era potenzialmente una polveriera ma come mai due missili siano riusciti a passare attraverso la sua poderosa difesa antimissile ed è qui che ci concentreremo in particolare forse è meglio escludere il primo sistema di difesa a lungo raggio cioè i grandi missili antiaerei s 300 che hanno più una funzione da deterrente per gli oggetti ad alta quota che hanno dei limiti ad operare sulla superficie del mare a causa della curvatura terrestre i missili da crociera volando a bassa quota verrebbero rilevati quando ormai sono troppo vicini per usare il sistema di difesa a lungo raggio mentre il reale scudo antimissile della nave erano i 40 lanciatori sa8 e le sei torrette gatlin automatiche che ho descritto prima sulla carta questi sistemi per quanto datati anche se non più di tanto erano considerati validi e quindi per superarli bisognava fare qualcosa di straordinario quindi lavoriamo per esclusione gli ucraini avrebbero potuto usare sto parlando per ipotesi un missile ipersonico che gioca sull'effetto sorpresa e riduce così i tempi di reazione dell'avversario oppure avrebbero dovuto lanciare moltissimi missili da crociera tradizionali cioè ne devi lanciare proprio un sacco magari che arrivino da direzioni diverse e nello stesso momento e così saturare la capacità di difesa della nave per fare in modo che appunto raggiunta la saturazione qualcuno di questi qualcuno di questi riesca a passare e colpire nelle immagini che vi sto mostrando ho condotto proprio degli esempi di questo tipo con dei missili da crociera di questo tipo simili al neptun anche se lanciati da aerei non fa differenza il loro approccio è lo stesso a bassa quota e la moscava della simulazione impiega tutte le sue risorse per intercettarli e lo fa senza problemi fino al momento in cui ne lancio talmente tanti che saturo la sua capacità e a quel punto per forza di cose qualcuno passa ma quindi come ha fatto l'ucraina con due suoli missili a passare onestamente non ne ho idea non me lo spiego cioè da qui in poi posso fare solo delle ipotesi una speculazione è che l'ucraina abbia utilizzato dei droni per distrarre l'attenzione dei reali missili in arrivo però però per contraddire queste ipotesi ci sono due fattori importanti il primo è che l'unità era perfettamente in grado di tenere traccia di molti oggetti contemporaneamente e di riconoscere le loro velocità per cui un drone che vola a 100 km orari per fare un esempio non è paragonabile a un missile da crociera con un radar attivo e che ti viene incontro a 900 km orari quindi se l'equipaggio della mosca era non era distratto da falsi bersagli l'unica spiegazione è che non stava prestando attenzione per niente e badate bene questa è solo una teoria ma questa idea la condivido con l'ex ufficiale di marina danese anders buk nielsen che ha tirato fuori queste considerazioni studiando l'approccio procedurale russo e il loro atteggiamento alle operazioni navali le sue impressioni furono che i marinai russi avevano un modo piuttosto antiquato di fare le cose a bordo che dimostravano una comprensione molto rigida delle procedure avendo lavorato anche su alcune motovedette danesi anni fa e che avevano il compito di scortare le navi da guerra russe attraverso lo stretto danese nielsen aveva notato che il loro modo di attraversare lo stretto e l'approccio alla navigazione era meccanico cioè rispettava un po un programma prestabilito con procedure che sembravano strane cioè troppo rigide quando per esempio la situazione reale richiedeva una variazione e questo perché come tutti sappiamo il mondo reale spesso non è esattamente quello che hai pianificato quindi sul lavoro aveva notato che non amavano cambiare cambiare rotta a seguito di imprevisti per esempio in caso di intenso traffico marittimo quando la cosa più semplice da fare è adattarsi girare un po con la nave e seguire il traffico loro non ci riuscivano si bloccavano come se seguissero la rotta prestabilita cioè sembrava che proprio non volessero abbandonare una linea tracciata sulla mappa un'altra cosa che confermava queste impressioni era nella velocità di queste navi aveva notato che acceleravano o rallentavano in modo causa casuale cioè non mantenevano una velocità costante e questo lui se lo spiega solo con il tentativo di restare sui tempi e i punti della rotta pianificata mentre tutte le altre navi del mondo normalmente aggiustano semplicemente la velocità generale per regolarsi sull'arrivo sulla destinazione non sul punto rotta punto per punto sulla ruota tracciata quindi in sostanza ha notato che i russi navigando in modo diverso dagli altri dimostravano una mentalità poco versatile ai campani cambiamenti esterni nelle immagini che vi mostro si vede unità russa più moderna del mosqua dove si vedono i marinai in azione all'interno della nave mostra che praticamente nessuno indossa abbigliamento protettivo e questo è veramente insolito se avete mai visto i nostri marinai sulle nuove o sulle navi americane quando si fanno delle esercitazioni ecco quel tipo di equipaggiamento è la normalità cioè non è la divisa di cotone con cui andresti in licenza il sabato sera l'equipaggiamento per una sala di controllo di una nave militare dovrebbe essere uno standard tipo elmetto militare salvagente giubbotti in kevlar sistemi radio perché quell'equipaggiamento ti può salvare la vita se qualcosa colpisce la nave i sistemi di comunicazione sono fondamentali e certo è un equipaggiamento pesante poco confortevole caldissimo ma le esercitazioni servono proprio ad abituarsi a questo cioè questo è quello che indossi quando sei pronto per una battaglia per intenderci non la divisa di cotone e a proposito diamo un'occhiata agli strumenti di bordo nelle unità occidentali come quelle italiane europee o americane questi hanno un aspetto moderno basato su computer schermate che hanno una chiara funzione di visualizzazione d'insieme e di semplice lettura e passatemi il termine confortevoli per contro nelle unità russe possono esserci cose del genere che per carità sono proprio vecchio stile questi strumenti sono degli anni 80 per essere buoni per esempio tutto dipende poi da un'interpretazione manuale analogica con una trasmissione delle informazioni orale manuale che segue la linea di comando fra le varie postazioni per carità la cara vecchia tecnologia analogica può funzionare benissimo ci mancherebbe ma il problema è che tanti vecchi sistemi richiedono moltissima mano d'opera hai bisogno di un equipaggio di altissima qualità in grado di operarla e che tutti questi sistemi funzionino al meglio e qui arriviamo all'elemento più importante di tutto il ragionamento di questo ex ufficiale che sarà anche il punto focale su cui ci soffermeremo e probabilmente le cause che hanno portato alla perdita della ammiraglia del mar nero il fattore umano nelle immagini che avete visto nella mia simulazione come ho detto la moscava ha utilizzato tutte le sue armi alla sua massima efficienza questo risultato dobbiamo immaginarlo come se tutti gli uomini siano stati ai loro posti ineccepibili altamente addestrati con una coordinazione perfetta e tempi di reazione da record anche nella realtà possono esistere risultati simili specialmente quando si parla di esercitazioni in tempo di pace i risultati sono quasi sempre perfetti l'esercitazione ha una durata limitata tutti si aspettano che a un certo punto accadrà qualcosa e quindi tutti rendono al meglio ma in tempo di guerra dopo tre mesi in cui non accade niente non c'è una reazione reale o un pericolo effettivo da parte del nemico dovremmo chiederci quanto i marinai in sala di controllo siano stati efficienti immaginiamo di guardare per ore uno schermo verde o blu di questo tipo in cui non succede assolutamente nulla di rilevante per ore giorni e vi sto mostrando quelli navali ma anche gli schermi di una moderna postazione s 400 non sono così differenti la maggior parte delle persone non riuscirebbe a stare concentrata su uno schermo di questo tipo per più di 30 minuti se avete capito quindi dove sto andando a parare questo spiega perché possono esserci tantissimi errori nei sistemi misteristici che non sono efficienti come tabelle e range dichiarate affermano quindi se devi guardare uno schermo del genere per otto ore al giorno e sette settimane di fila e non è successo nulla come minimo vai fuori di testa vedrai tutti i giorni i contatti andare a venire e nessun allarme è difficile restare vigile questo effetto in gergo militare viene chiamato fatica dell'operatore e anche se l'equipaggio si è comportato perfettamente in esercitazioni a causa della stanchezza può commettere gli errori più imbarazzanti e credetemi anche escludendo il caso specifico della moscava la storia dell'aviazione civile e militare e della navigazione marittima è strapiena di errori fatali dovuti al fattore umano e alla stanchezza dell'operatore quindi l'equipaggio di una nave da guerra deve essere costantemente vigile per difendersi da un attacco missilistico e immaginiamo che dal momento in cui viene rilevato un missile in arrivo su uno schermo radar e questo sia stato identificato come una reale minaccia tra tutte le altre l'equipaggio ha dai due ai tre minuti per intervenire quindi la reazione deve essere rapida devono essere prese le decisioni giuste per poterlo intercettare non ha il tempo di chiamare posti di combattimento o di contattare l'ufficiale in comando per sentire cosa vorrebbe fare deve esserci insomma una risposta pronta immediata e pre pianificata per questo motivo per i tre mesi di attesa in cui non è successo nulla e proprio per il caos che un singolo o due missili del tutto inaspettati hanno generato non credo che l'equipaggio sia stato distratto da droni o altre contromisure particolari anzi se ci fossero state delle esche in volo sarebbe stato più semplice per gli operatori capire che stava per succedere qualcosa di strano quantomeno ci sarebbe stato qualcosa da fare ma appunto se quel pomeriggio fosse stato estremamente noioso di brutto tempo atmosferico e con il normale traffico civile a ovest sul bordo dello schermo e a nord niente non è difficile immaginare un ragazzo semi addormentato in postazione o che chiacchiera con il collega se non addirittura fuori a fumare una sigaretta a quel punto potrebbero passare secondi e minuti preziosi prima che venga rilevato un attacco probabilmente non si sono neanche accorti del suo arrivo finché il neptun i missili hanno attivato il loro radar di ricerca e a quel punto il radar warning receiver della moscava ha iniziato a suonare generando panico in sala controllo a quel punto far accelerare la nave non è servito a niente ed è mancato anche il tempo per agganciare la minaccia in arrivo e impegnarla con i saotto e le batterie di gatlin quindi credo anch'io che l'errore umano e la fatica degli operatori sia stata la causa principale di questo affondamento i danni catastrofici subiti come ho detto prima sono da attribuirsi ai difetti di costruzione di materiali non idonei ed è semplice fatto che la nave era una polveriera ambulante e queste considerazioni non sono nuove cioè è noto da tempo che un sistema di bordo basato su processi manuali a queste vulnerabilità non è un problema solo russo per intenderci ma di molte nazioni che hanno un approccio troppo rigido e tradizionale come questo a prescindere dalla tecnologia che c'è a bordo ed è chiaro sulle navi italiane o occidentali gli schermi e i software sono pensati per avere un design che aiuta e facilita questo lavoro degli operatori ma il problema umano di fondo resta perché sopravvivono ancora tutta una serie di processi manuali nella linea comando e nella catena delle decisioni tattiche da prendere specialmente poi oggi questo discorso fa riflettere perché con l'introduzione di armi super veloci come i missili ipersonici se non peggio le railgun o armi ad energia richiedono tempi di reazione istantanei di fatto rendono l'operatore umano un elemento super critico con tutti i suoi limiti a questo scopo in occidente esiste un programma con tutta una serie di procedure condivise per le navi più avanzate nato questo questo programma viene dominato te w a acronimo che significa valutazione della minaccia e utilizzo dell'arma in funzione di questa più o meno è un automatismo della nave che evita chiamate inutili valutazioni passaggi di mano delle informazioni la nave riconosce in automatico la minaccia e l'operatore deve solo premere un bottone e il computer lancia automaticamente il sistema di autodifesa ma stiamo parlando di un'applicazione sperimentale non è presente su tutte le navi anzi la maggior parte sono molto lontane da questo standard quindi l'affondamento del moscova e in un certo senso è stato un campanello d'allarme per tutte le marine del mondo è un evento che fa riflettere e ci ricorda che tutte le navi da guerra sono vulnerabili e che tutti possono essere colti di sorpresa e questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti come sempre un abbraccio alla prossima